Mi chiamo Bernardo Briganti, sono un sacerdote di Corleone. Quando qualcuno vuole mettere a fare tante cose e non si sa se arriverà a portarle a combimento, qui a Corleone si dice omettere i pulcini al sole, cioè non uscire i pulcini al sole, perché essendo deboli e fragili rischiano di morire sotto il sole, no? E quindi non pensare a fare tante cose che poi non riuscirà a portare a combimento.